Il dato di Gela è eloquente, il no ha ottenuto il 72,1% dei riscontri, mentre il sì si è fermato al 27,9%, un divario nettissimo così come accaduto in tutta Italia. Dei 59.592 elettori chiamati alle urne hanno votato in 20.266, cioè dire il 47,3%, 12.409 hanno votato no, 7.857 sì. I giolesi hanno bocciato la riforma costituzionale voluta dal governo Renzi, che ha subito un colpo durissimo e soprattutto il Partito Democratico, una vera e propria ammazzata. Avere sostenuto il premier Matteo Renzi, ritenuto dai giolesi, tra gli artefici della chiusura dello stabilimento Eni, ha pesato tantissimo. Esultano di contro il centrodestra e i grillini. E la vittoria del no ha portato ieri sera il presidente del Consiglio dei Ministri a rassegnare le proprie dimissioni. Mi assumo tutta la responsabilità della sconfitta, volevo ridurre il numero delle poltrone. La poltrona che salta è la mia, ha detto durante la conferenza stampa, convocata a Palazzo Chigi intorno a mezzanotte. Il premier ha fatto quello che aveva annunciato all'inizio della campagna elettorale, in caso di vittoria del no. Oggi convocherà il Consiglio dei Ministri, salirà al Quirinale e consegnerà le dimissioni nelle mani del presidente Mattarella. Tornando a Gela, ieri le operazioni di voto sono state bloccate per circa due ore in un seggio elettorale nel rione Villaggio Aldisio, per le proteste di una elettrice, secondo la quale la matita fornita dalla prefettura non era copiativa, cioè dal segno indelebile, ma perfettamente cancellabile e dunque con lo rischio di possibili brogli. La prova della facile cancellazione l'avrebbe fatta le stesse in cabina, perciò ha chiesto una dimostrazione ufficiale irripetibile da acquisire gli atti davanti alle forze di polizia, riservandosi la ricorso alla magistratura. Il presidente del seggio e l'ufficio elettorale hanno preso verbale le dichiarazioni dell'elettrice e hanno fatto riprendere le operazioni di voto respingendone la richiesta. Le matite, provate dai dipendenti comunali su carta normale, sarebbero risultate perfettamente a norma. Non vorrei fare un'analisi politica, perché la gente ha capito, la gente ha difeso la Costituzione, la gente è stata sovrana, ha scelto la democrazia alla violenza della democrazia. E quindi il referendum è stato bocciato all'unanimità degli italiani, perché il dato confortante e scandaloso per quanto riguarda il PD è che il 72% ha votato per il no. Quindi ha difeso la Costituzione, ha difeso i diritti, ha difeso il popolo, ha difeso la Repubblica italiana. Chi ha preso una mazzata altrimenti è proprio il Partito Democratico. Ma io credo che questo sia stato un errore del leader del Partito Democratico, che ha personalizzato questo referendum, e questo è stato un errore. Questo era un referendum costituzionale, era un referendum per gli italiani e per l'Italia. Lui l'ha trasformato in un referendum politico, non si risolve così la crisi politica, sicuramente facendo un cambiamento della Costituzione. Quindi gli italiani l'hanno bloccato, gli italiani lo rimandano a casa e sicuramente gli italiani hanno voglia di andare a votare e di scegliere il proprio leader che li guida per i prossimi anni. A livello locale cosa cambia? Ma diciamo che a livello locale abbiamo la consapevolezza che il Centrodestra Unito arriva in numeri importanti. Abbiamo la consapevolezza che l'affluenza alle urne è alta e abbiamo la consapevolezza che si può cambiare e si deve cambiare. Ma sicuramente dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare soprattutto nelle idee e di proporre a questa città uno sviluppo importante per rialzarci da questa crisi che ci attanaglia da tantissimi anni. Oltre a voi esultano anche i grellini. Assolutamente, diciamo che i partiti hanno fatto la propria parte. Noi abbiamo messo il nostro simbolo, noi di Forza Italia abbiamo lavorato per difendere la Costituzione come l'hanno fatto il Partito Liberale, il Comitato per il No e quindi il Movimento 5 Stelle. Ma questa è una vittoria non dei partiti ma è una vittoria del popolo e degli italiani e soprattutto dei gelesi che hanno bocciato il Partito Democratico e Renzi. Segretario, i numeri parlano da soli. 12.409 a Gela hanno votato no, 7.857 sì. Avere sostenuto Matteo Renzi in una città che ha perduto lo stabilimento e Matteo Renzi, il Premier, è stato definito l'altefice della chiusura non è stato assolutamente facile. Io sgancio il mio ragionamento rispetto a una vicenda semplice. Io devo ringraziare tutto il gruppo dirigente che da maggio ha iniziato questa straordinaria campagna elettorale che non era una campagna elettorale a favore o contro il Renzi e purtroppo noi non siamo secondo me riusciti totalmente, non solo a Gela ma a tutti i livelli, a sganciarci da questa cosa ma era una campagna dal nostro punto di vista per mettere in campo una grande visione di cambiamento e di innovazione del Paese. Chiaramente noi ci siamo spesi perché rispetto a questa idea di cambiamento ci credevamo e ci crediamo e rispettiamo l'elettorato che invece non ha voluto dire no. Ma è una vera e propria mazzata per il Partito Democratico? E' certamente un risultato negativo che ridimensiona profondamente il Partito Democratico sul piano dei numeri, su questo non ci sono dubbi. Contemporaneamente però voglio ricordare che il dato nazionale ci parla di un 40% che mentre dall'altra parte, diciamo socialmente solo dell'area democratica, mentre dall'altra parte mi sembra che ci siano tra movimenti, sigle sindacali, associazioni, una ventina di sigle e quindi insomma lì bisogna capire cosa succede. Però guarda io non voglio buttarla adesso nella polemica. Ripeto, noi abbiamo fatto una grande battaglia di cambiamento, abbiamo perso, ne prendiamo atto e cerchiamo di ripartire rispetto a quel dato. Però anche all'interno del PD, mi riferisco a livello nazionale, c'erano due anime, c'era chi diceva sì, c'era chi diceva no. Sì, purtroppo un pezzo del partito non ha condiviso il percorso. Io vengo dalla sinistra del mio partito, da quella storia e ritengo che questa idea di cambiamento meritasse sostegno perché era un'idea ed è un'idea utile al Paese che avrebbe semplificato profondamente la struttura del Paese. Detto questo, è andata così, bisogna ricostruire dal dato che comunque, ripeto, nazionalmente è un dato del 40% e chi pensava che la città di Gela sarebbe sganciata rispetto al dato regionale non è stato così, visto che Gela è pienamente nella media regionale, che purtroppo è una media negativa e non è una scusante ma è un dato di fatto. Molte città di proporzioni grandi hanno anche fatto peggio di Gela. Questo dimostra che il trend alla fine è stato un trend politico nazionale e che alcune vicende localistiche, diciamo, non sono completamente centrate all'interno della discussione. Ripeto, il Partito Democratico riparte da questo dato con grande umiltà e rispettando le elettrici e gli elettori che hanno scelto di non sostenere questa riforma. Non vogliono abbandonare la propria città, non vogliono andare via da Gela così come hanno fatto in tanti negli ultimi tempi a seguito della chiusura dello stabilimento. Loro vogliono rimanere nel luogo in cui hanno vissuto e vivono. Sono le mogli, i figli degli operai dell'indotto della raffineria, anzi, per essere chiari, degli ex operai di un indotto che non esiste più. Hanno scritto una lettera aperta al sindaco Domenico Messinese «Nessun attacco, ma solo un'immediata presa di coscienza di quello che sta accadendo». Ormai il Natale è alle porte e per noi sarà un Natale amaro, duro, difficile a causa della situazione che stiamo vivendo, senza lavoro, senza futuro, scrivono. E non siamo soli, sono coinvolte in tale tragedia anche altre famiglie gelesi, altri settori, purtroppo. Non è facile per nessuno vivere questo dramma. Rivolgendosi al primo cittadino chiedono di mettersi una mano sul cuore e di leggere ciò che c'è nel nostro cuore, il cuore degli onesti cittadini gelesi, le persone che non fanno notizia, che differenziano i rifiuti correttamente, quelli che pagano le tasse, quelli che amano la propria città, quelli che guai a sentir parlare male di Gela, quelli che hanno perso, stanno perdendo i propri cari, a causa del cancro e, come se non bastasse, hanno perso il lavoro. Chi ci riderà la nostra dignità? Cosa metteremo in tavola questo Natale? Da mogli, da compagne, non è facile stare accanto a delle persone che non hanno il lavoro, disperate, che hanno poca fiducia nella politica, nelle istituzioni che vivono in primis questo dramma. È un'esperienza bruttissima, un trauma psicologico ed economico che impatta sulla vita di coppia e familiare. Essere di sostegno al marito e ai figli non è per niente facile in un contesto del genere. I problemi che ruotano attorno a questa realtà sono complessi e complicati da spiegare. Ad oggi non esiste nulla di concreto, di risolutivo per gli opera dell'indotto e della nostra città, mentre di concreto esiste il disagio, la sofferenza, le difficoltà economiche, mutui da pagare, bollette, figli da crescere, da mandare a scuola con dignità e bisogna pur mangiare. Noi non siamo invisibili, non vogliamo rinunciare allo splendore delle nostre spiagge, si legge ancora nella lettera, e al clima stupendo che tutti ci invidiano. Non vogliamo sussistenza, vogliamo ciò che ci spetta, il lavoro per tutti, il lavoro per chi ha sempre lavorato a Gela ed adesso è costretto ad andare a lavorare e a vivere lontano dalle proprie famiglie e a ritenersi fortunato quando lo trova. Ma veramente dobbiamo lasciarci morire così? Veramente non c'è nulla da fare? Non vogliamo lasciare questa città, è nostra. Sindaco, le auguriamo di passare uno splendido Natale, ma chiediamo che pari dignità sia conferita al nostro Natale. Non è un panettone, è uno spumante che fanno la festa, ma la gioia di stare uniti, vicini, accanto ai propri cari. Lei è il primo cittadino. Non le sembra, chiudono, che questa città sia stata calpestata a sufficienza? Care concittadine, a voi che siete il migliore esempio di coraggio e di forza, il vostro dramma non è un disagio isolato e circoscritto. Ciò che stanno attraversando le famiglie dei lavoratori dell'indotto ha ripercussioni sull'intera economia cittadina e anche sullo spirito di questo Natale in ognuno di noi. Ma sarebbe un errore pensare che l'attenzione che vi stiamo rivolgendo è solo una circostanza limitata a queste festività. Le ricorrenze di questo periodo acquiscono i dolori di una popolazione in cui si specchia la storia della nostra città negli ultimi 50 anni. Una storia con un epilogo indegno per un popolo che ha pagato con il sacrificio e la vita. Se non fosse per la forza e il coraggio che trasmettete nella mia azione amministrativa. Fermarsi a leccarci le ferite non darebbe giustizia alla nostra identità. Sin dal mio insediamento sono stato al vostro fianco. Ho ascoltato le vostre storie. Ho preteso spiegazioni in tutti i confronti con i nostri governanti. Un percorso in salita che giorno dopo giorno ci allontana sempre più dal baratro in cui eravamo finiti. Ma ho soprattutto condotto una battaglia che solo una persona libera dai fili dei partiti può permettersi. Anche a rischio della propria persona. Ho portato la questione oltre i confini territoriali perché Gera rischiava di essere archiviato come un caso risolto. Finendo nel dimenticatoio come altre realtà locali hanno già sperimentato. Ho urlato la mia rabbia nei network nazionali e ai vertici ministeriali. Anche quando mi sono sentito solo non ho mai ceduto a tentazioni disoneste. Perché sentivo forte la vostra rabbia di cui mi sono voluto fare interprete. Sarebbe stato troppo semplice continuare la politica che divide la disperazione. Rassicurandola con i vari ci penso io a te, non ti preoccupare. Sistemo tutto io di circostanza a cui ci hanno abituato e le stofanti della politica. Io queste formule non le ho mai sapute pronunciare. Ma in ogni atto che ho firmato, in ogni progetto di sviluppo che ho presentato, in ogni tentativo di investimento esterno che ho caldeggiato, non c'è stato un secondo della mia vita in cui io non abbia pensato alle vostre preoccupazioni di mogli e alle vostre apprensioni di madri. Nelle ultime ore stiamo approfondendo la questione che riguarda l'impiego della mano d'opera nei cantieri avviata da Enimed. Il 12 dicembre si terrà a Caltanissetta un tavolo perfettizio, perché quel tavolo spetta soltanto a chi è inserito nella lista di disponibilità. Ma questo non è il nostro unico impegno. Abbiamo tracciato opportunità occupazionali a medio e lungo termine per il territorio, perché non vogliamo che i nostri cittadini vivano di elemosine. Io non so se la bioraffineria, i fondi di compensazione, il patto per la Sicilia, i finanziamenti europei, l'agricoltura, l'artigianato, il turismo, saranno sufficienti a segnare la svolta economica di questa città. Sicuramente non è un cammino facile, ma solo il passo deciso di una città che non retrocede può sostenere. Di certo non abbiamo lasciato nulla di intentato per il futuro delle vostre famiglie, che più di tutte meritano rispetto per il lavoro e la dignità che le sono state scippate dall'oggi al domani. Continuiamo a seguire ogni passaggio di queste ambiziose linee di sviluppo economico con grande fiducia. Solo forti di questi sentimenti potremo cogliere il senso vero di ogni augurio che ci scambieremo alle soglie di un anno che attendiamo con l'ottimismo di chi, dopo una caduta, sa rialzarsi più forte. Voi avete avviato numerosi incontri. Adesso promuovete anche un laboratorio, un laboratorio di idee. Sì, praticamente mettere in campo un progetto condiviso per fare ripartire questo territorio. Un progetto che sia elaborato dalle cittadine e dei cittadini di questo territorio, dove incontrando associazioni, parrocchie, scuole, comitati di quartiere, insomma abbiamo organizzazioni. Da tutti è venuta fuori l'idea che questa città sta morendo, ma dall'altra anche rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti per dare una prospettiva soprattutto ai nostri figli. Sostanzialmente lei dice che bisogna fare rete per uscire da questa situazione. Sì, perché molti giocano sulle divisioni di questo territorio. Noi ci siamo resi conto incontrando a livello nazionale varie istituzioni, incontrando anche a livello regionale, puntano molto su questa nostra incapacità di fare rete. Bene, noi invece pensiamo che i cittadini e le cittadine abbiano tutto il diritto e soprattutto la voglia di fare qualcosa per il proprio territorio. Questa è una città ricca di energie, di risorse, di movimenti, associazioni, parrocchie, eccetera, molto attive. E quindi è da lì che noi vogliamo partire, dalle persone in carne e ossa, utilizzando degli strumenti chiari che ci aiutano a definire un progetto che faccia ripartire questo territorio. In un'area molto più diretta, pragmatica, facendo rete si trova il lavoro? Facendo rete non si trova il lavoro, ma si pongono, è chiaro che noi guardiamo all'immediato, al medio e a lungo termine. Questa città va ripensata. La gente non ha più lavoro. Molti facevano fronte sullo stabilimento, su Leni, che ha ridimensionato. È una partita che andrebbe poi giudicata perché siamo arrivati a questo punto e tutto il resto. Però in questo territorio stanno arrivando tantissime risorse. Ci sono tantissime opportunità che possono portare allo sviluppo di attività lavorative. Ci sono tanti soldi che devono essere spesi per le bonifiche e queste bonifiche vanno ancora progettate e attuate. Lì potrebbero trovare lavoro tantissime persone, ma andrebbero attivate anche delle altre funzioni, che sono la formazione di quegli operai che hanno perso il lavoro e che potrebbero andare a lavorare dentro quei cantieri. Ci sono altri cantieri che potrebbero partire, ma per mancanza di autorizzazioni non partono. Allora noi dobbiamo fare fronte comune. Come si dice dalle nostre parti, qui non c'è più tempo per babbiare. Cioè qui nessuno può giocare sul futuro di questo territorio. E quindi dobbiamo essere noi cittadini a rimboccarci le maniche e a darci aiuto perché nessuno ci viene a salvare. Ce ne siamo resi conto. E nella rete coinvolgerete anche l'amministrazione comunale? Con l'amministrazione comunale noi avremo un dialogo diretto perché è chiaro che noi quello che elaboreremo lo porteremo sul tavolo delle istituzioni, delle varie istituzioni, e loro saranno anche più forti nella richiesta di quello che vuole questa città, perché non sarà il tizio o il caio ad averlo elaborato in una stanza con due o tre soggetti, ma sarà la città che insieme deciderà quale futuro dare a questo territorio. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Sono passati 37 anni dalla sua chiusura. Da ieri la chiesa San Francesco di Paola, detta do Santu Pace, è nuovamente accessibile. La chiesa fu edificata nel 1738 ad opera dei padri minimi. Fu chiusa nel maggio del 1979 a causa del cedimento del pavimento e di infiltrazioni d'acqua. Grazie ai lavori di restauro del fondo edifici di culto proprietaria dell'immobile e della sovrintendenza, ieri con una solenne celebrazione eucaristica preseduta da Monsignor Rosario Gisana, la chiesa è stata riconsegnata alla città. Si tratta di un bene artistico e spirituale molto importante. In tantissimi ieri, fin dalle prime ore del mattino, hanno assistito all'apertura. Tanti i marinai e gli ex allievi delle suore figlie di Sant'Anna che hanno varcato il portone con nostalgia, ricordi e lacrime. Nella chiesa sono state esposte le antiche statue e ligne di San Francesco di Paola, Santu Pace, e di San Nicola da Mira o Bari, la tela di San Giovanni di Dio e la tavola di San Francesco di Paola. E vivo ancora il culto a San Francesco di Paola che fino agli anni 70 veniva festeggiato con la processione e la varchiata lungo la costa gelese. E questo per me è un evento importante non solo per una riappertura in sé, ma perché dà speranza alla città. Noi vogliamo che questa città riviva in una maniera splendida, come di fatto è ogni gelese. il Signore veramente possa attraverso questo piccolissimo segno far capire che qualcosa sta davvero diciamo agendo nella nostra città, nel nostro territorio, che è l'agire della grazia di Dio, l'irruzione del regno, della sua signoria di misericordia, in un tempo in cui ci si prepara alla venuta del verbo. La chiesa affidata a Donnalino di Dio sarà utilizzata per l'adorazione eucaristica permanente e per le attività di carità svolte dalla piccola casa della misericordia. Avviata una sottoscrizione per l'acquisto dei banchi e di restauro delle due opere danneggiate, la pala dell'Immacolata Concezione e la tela della Madonna della Grazia o del lume. Gela ha festeggiato ieri l'Immacolata Concezione e tanti fedeli nella chiesa San Francesco hanno assistito al pontificale presieduto da Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Almerina, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. È stata l'occasione anche per benedire le nuove tele poste sull'altare maggiore. Mentre l'antica Eva bramava di avere e conoscere di più la nuova Eva Maria ha posto nelle mani del Signore la sua vita perché facesse di lei la serva, la serva dell'umanità come dovrebbe essere ogni credente e quindi la chiesa stessa. Il vescovo di Piazza Almerina ha rivolto anche un pensiero alle famiglie degli operai dell'indotto dello stabilimento che hanno perso il lavoro. La preghiera anzitutto per la benedizione che il Signore può sicuramente elargire per tutti loro. Una benedizione d'amore, d'affetto ma soprattutto di speranza perché il lavoro possa tornare trionfante in questa città. Alle 16.30 il simulacro dell'immacolata è stato portato in processione per le vie della città accompagnato dalla banda musicale. Ridotta presenza per non dire assenza di servizi nell'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela, mancanza di personale medico e paramedico, assenza o mancato funzionamento di strumenti diagnostici, sono solo alcune delle carenze della sanità sul territorio locale su cui è puntato l'indice il Comitato Giolensis Populus. Problematiche che, secondo il Comitato, che raggruppa numerose associazioni che si occupano proprio di sanità, creano enormi disagi ai quasi 76.000 cittadini gelesi o, per meglio dire, ai 130.000 abitanti dell'area sud della provincia di Caltanissetta, oggi libero consorzio. Occorre partire dallo stato attuale, dice il portavoce Liliana Bellardita, che vede oramai ricadere sull'ospedale gelese la popolazione dell'intero sud della vecchia provincia nissena da quando si è deciso di sopprimere molti dei parti negli importanti ospedali di Niscemi e di Mazzarino. Tuttavia, da come l'attuale manager dell'Aspacile 2 sta gestendo la sanità a Gela, sembra che la prossima scura calerà sul collo dell'ospedale Vittorio Emanuele. La carente offerta sanitaria ospedaliera che soffre dell'assenza e o mancato funzionamento di strumenti diagnostici delle lunghe liste d'attesa della mancanza di personale medico e paramedico adeguato in termini numerici presente su Gela spinge ad una immorale migrazione dei pazienti gelesi sostiene ancora Bellardita verso altre strutture sanitarie del distretto benché vada o del fuori distretto. Il riferimento è a tutti quei cittadini che quotidianamente sono costretti ad affrontare estenuanti viaggi verso Caltanissetta, San Cataldo, Caltagirone o Vittoria. Migrazione che fa dei cittadini gelesi continua la nota una sorta di merce umana da dividere tra gli ospedali della Sicilia centro-meridionale. La sanità gelese non pretende nulla in più rispetto agli altri territori, vuole solo la normalità nonostante il riconoscimento nazionale di Gela come sito ad alto rischio ambientale. normalità che significa dimenticare le lunghe attese per avere accesso al pronto soccorso, potere trovare sempre medici nelle parti sia per la cura che per la diagnosi, avere le strutture adeguate ai bisogni dei cittadini, in sostanza avere le giuste strutture, i giusti macchinari ed il congulo personale per dare la possibilità agli utenti di una pronta e corretta risposta sanitaria senza spostamenti inutili. Poi il comitato fa un'analisi dettagliata della situazione di ogni unità operativa da cui emergerebbe una situazione disastrosa, citiamo il reparto radiologia. Si è fatto un gran parlare di tacca di ultima generazione ma nel reparto è sempre presente una sola ed unica tacca di 12 anni che si guasta facilmente e considerato che viene sempre utilizzata. Non vogliamo fare alcuna polemica rimarca Bellardita, vogliamo riaccendere i riflettori sulla nostra città che è patrimonio di tutti indistintamente e vogliamo solo esortare la politica locale e non solo a prendere provvedimenti immediati per l'ospedale di Gela affinché i gelesi possano raggiungere quantomeno la normalità in ambito sanitario. Grazie a tutti i nostri spettatori